o hola amigos buenos dias a che ora se stai in italia las dos amici sportivi ciao a tutti quanti un saluto dal picco della nieve per anticiparvi quella che sarà la nostra diretta facebook come ogni venerdì il punto del venerdì oggi abbiamo posticipato la nostra data anziché farla sì la diretta ce l'abbiamo perché una persona ci sta guardando anziché farla alle 12 45 intanto vediamo max e debusti all'arrivo sul picco della nieve salutiamo tutti i ragazzi che sono arrivati ragazzi alessandro max francesco pietro daniele giornata fantastica ragazzi non so se riuscite a vedere qua in alto il picco della nieve guardate quanti ciclisti qua ci sono soltanto dei ciclisti e basta giornata meravigliosa poi magari ve la racconteremo questa sera spero che vada tutto bene ragazzi ce l'auguriamo evidentemente tutti quanti questa sera un saluto intorno alle ore 20 parleremo non soltanto della nostra giornata ma per essere istituzionali parleremo ovviamente anche del nostro punto del venerdì e faremo il punto della situazione perché anche in vacanza vero walter ciao ciao a tutti noi non dimentichiamo quelli che sono i nostri impegni e quindi anche stasera faremo la nostra diretta e faremo il nostro compito ragazzi noi vi salutiamo vi lasciamo con queste meravigliose immagini anzi se la telecamera me lo concede un attimo solo che vediamo se si gira si si gira ok vi faccio vedere in diretta il picco della nieve il famoso picco della nieve solo un attimo io poi ho anche le vertigini qua siamo al picco hanno detto che quello è il picco della neve quello è il picco che abbiamo somministrato vi faccio fare una carrellata anche qua ragazzi c'è marketing come vedete c'è il ciringhito che non so se è un ciringhito o che cosa sono un po tutte le nazionalità del mondo ce n'è di ogni è veramente e qua c'è il massimo veramente della vista qua si vede tutta la vallata non so se si vede anche il mare però insomma questo è il punto più alto delle gran canaria salvo ovviamente il teide a tenerife ma noi stiamo da un'altra parte guardate che meraviglia ragazzi è veramente spettacolare ok e con questo veramente vi saluto vi aspetto questa sera ore 20 in italia per il punto del venerdì internazionale ciao a tutti amici sportivi